Nella sua bellissima tenuta di campagna, la famiglia Spiller è lieta di ricevervi per organizzare con voi la cerimonia più importante della vostra vita. L'agriturismo El Gran, in attività dal 1996, seguirà con passione e professionalità tutte le fasi organizzative e voi avrete la garanzia di un matrimonio impeccabile nell'esclusivo scenario di una location immersa nella natura. Il casale di campagna, con una capacità di 150 invitati, è accogliente e intimo. Nel porticato che si affaccia sul bel giardino si potrà allestire un piacevole banchetto in completa comodità e all'aria aperta. La sala interna, infine, è ampia e arredata con semplicità, con grandi finestre e rifiniture dai colori naturali, per un'ambientazione ancor più suggestiva. Qui troverete professionisti di fiducia per riservarvi i migliori servizi volti a rendere esclusiva la vostra cerimonia. Vi propongono, tra le varie opzioni, la possibilità di organizzare per voi la cerimonia e il ricevimento, includendo ogni dettaglio, dalla musica al fotografo al trucco per la sposa. Il menu, proposto dalla casa, comprende una vasta offerta di piatti tipici. Potrete scegliere le pietanze, a base di carne o pesce, direttamente con i proprietari che sono specializzati nella realizzazione di eventi unici come il vostro.